Ciao, mi chiamo Natasha e oggi ti racconterò tutto ciò che devi sapere su Idealfit prima di acquistare il prodotto. Ho anche due avvisi molto importanti, quindi presta molta attenzione a ciò che ho da dire. La prima cosa che devi sapere su Idealfit è, fai attenzione a quale sito acquisti Idealfit, poiché il prodotto è venduto solo sul sito ufficiale. Per aiutarti, ho lasciato il link del sito ufficiale qui sotto nella descrizione di questo video. La formula di Idealfit consiste in una serie di ingredienti puri e naturali che si sono dimostrati altamente efficaci per la perdita di peso. Idealfit è un integratore alimentare rivoluzionario, progettato per una rapida combustione dei grassi. A differenza di molte altre soluzioni per la perdita di peso oggi sul mercato, Idealfit non contiene ingredienti o sostanze chimiche aggressive. Tutti gli ingredienti sono al 100% naturali e sicuri. Ho trovato molte opinioni positive online che parlano dei benefici e del prezzo vantaggioso di Idealfit. A dire il vero, avevo ancora dei dubbi e non immaginavo che potesse funzionare, ma dopo 30 giorni di utilizzo, ho ottenuto un risultato incredibile. Sono riuscita a perdere quasi 8 chili. Per questo motivo, oggi consiglio questo prodotto a tutti. Il mio consiglio è, Idealfit è ora in offerta. Acquistalo prima che l'offerta finisca. Aiuta il tuo corpo a perdere i chili in eccesso e inizia a migliorare la tua qualità della vita il prima possibile. Proprio come me, inserisci il tuo nome e numero di telefono nel modulo sul sito ufficiale che ho lasciato nella descrizione e il loro team ti contatterà. Riceverai Idealfit a casa tua in pochi giorni.